Cari ascoltatori di Radio Puginion Air, benvenuti a questo approfondimento speciale. Ci occuperemo di un evento drammatico e preoccupante che ha interessato i Campi Flegrei, una delle aree vulcaniche più attive e affascinanti del nostro paese. Parleremo del recente crollo di un costone di roccia a Monte di Procida e della scossa di terremoto che oggi ha colpito la zona. Oggi 11 luglio 2024 analizzeremo in dettaglio cosa è successo, le reazioni della popolazione, delle autorità e le implicazioni di questi fenomeni naturali. Vi invitiamo a rimanere con noi dopo la sigla per questo nostro speciale approfondimento. Questa è Radio Puginion Air. Buon ascolto da Radio Puginion Air. Oggi 11 luglio 2024, poco prima di mezzogiorno, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito l'area dei Campi Flegrei. La scossa è stata registrata precisamente alle 11.59 con un epicentro localizzato nella zona di Agnano Pisciarelli e una profondità di 2,7 chilometri soltanto. Nonostante la magnitudo non particolarmente elevata, il terremoto così superficiale è stato distintamente avvertito dalla popolazione, soprattutto a Pozzuoli, causando momenti di paura e panico tra i residenti. Molte persone, allarmate dal boato che ha accompagnato la scossa, sono scese in strada in cerca di sicurezza. Per comprendere meglio la situazione è importante fare un passo indietro e spiegare il contesto geologico dei Campi Flegrei. Questa area vulcanica, situata ad ovest di Napoli, è famosa per la sua intensa attività sismica e vulcanica. La caldera dei Campi Flegrei è caratterizzata da fenomeni di bradicismo, un processo di sollevamento e abbassamento del suolo causato dai movimenti del magma sottostante e dei gas che vengono surriscaldati e dunque creano quella pressione che poi scuota, fa rompere, crea delle fratture nel sottosuolo e da qui questi terremoti. Questo fenomeno rende la regione particolarmente instabile, dunque soggetta a frequenti scosse di terremoto anche di bassa intensità. L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, ha registrato che la scossa delle 11.59 è stata accompagnata da un boato, un fenomeno comune nelle aree vulcaniche, dove le onde sismiche possono essere amplificate e trasmesse in superficie. La scossa è stata parte di uno sciame sismico iniziato alle 11.57, comprendente dei terremoti, sei terremoti, con magnitudo superiore a zero e una magnitudo massima di 2.6. Questo tipo di attività sismica è frequente nei campi flegrei e, sebbene la maggior parte delle scosse siano di bassa intensità, possono comunque causare preoccupazione tra la popolazione. Ma cosa è successo oggi di particolarmente rilevante? Quasi contemporaneamente alla scossa di terremoto, si è verificato il crollo di un costone di roccia a Monte di Procida, vicino alla località balneare di Miliscola. Il cedimento avvenuto a mezzogiorno ha sollevato una grande nuvola di fumo, provocando momenti di panico tra i bagnanti che affollavano le spiagge. Fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti, ma l'evento ha generato una comprensibile preoccupazione tra la popolazione locale, tanto più che questi due fenomeni sono accaduti quasi contemporaneamente e molti hanno giustamente pensato che questa frana, questo crollo, sia stato dovuto alla scossa, alla scossa avvenuta pochi minuti prima. Fortunatamente la zona interessata dalla frana era già stata interdetta al pubblico in passato a causa del rischio elevato di cedimenti. L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prontamente dichiarato che, secondo le informazioni attualmente disponibili, non esiste un vero e proprio collegamento diretto tra la scossa di terremoto e la frana. Tuttavia il crollo ha evidenziato la fragilità del territorio e l'importanza di una gestione attenta e preventiva dei rischi geologici. E poi possiamo dire chiaramente che nel momento in cui la terra si muove e anche con una certa importanza, naturalmente se anche non c'è un collegamento diretto, perché non abbiamo le prove di questo collegamento diretto, ma si può presumere che nel momento in cui viene stimolato il terreno, dunque la roccia anche di questo costone, dalle vibrazioni di un terremoto possa accadere anche di conseguenza che avvengano dei cedimenti, come è accaduto in altre zone, anche d'Italia, quando si verificano dei terremoti, a volte ci sono dei cedimenti proprio strutturali di montagne e altri fiumi, eccetera. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato urgentemente il centro coordinamento soccorsi presso la prefettura per valutare la situazione e determinare le misure di sicurezza necessarie. Il prefetto ha sottolineato che lo smottamento, sebbene di modesta entità, si è verificato in un'area ad alto rischio franoso, classificata come R4, già interdetta all'accesso. La risposta delle autorità è stata immediata. Sono stati effettuati sopralluoghi da parte del Servizio Tecnico Comunale per valutare la necessità di rafforzare le barriere fisiche di accesso al sito e aumentare la segnaletica di pericolo. La Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per presidiare l'area, garantendo che il divieto di navigazione per 400 metri dalla costa fosse rispettato. Per comprendere appieno l'importanza di questi eventi, è utile approfondire il fenomeno del bradisismo che caratterizza la caldera dei campi fregrei. È un fenomeno particolarmente attivo nella zona di Pozzuoli, dove si registra un sollevamento medio del suolo di circa 20 mm al mese, secondo i dati più recenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il bradisismo non è solo una curiosità scientifica, ma ha un impatto diretto sulla vita quotidiana degli abitanti della zona. Le scosse di terremoto, anche se di bassa magnitudo, possono causare danni strutturali e influenzare la stabilità delle costruzioni. La frana di Monte di Procida è un esempio lampante di come questi fenomeni naturali possano interagire e generare situazioni di emergenza. La gestione del rischio sismico e vulcanico nei campi fregrei richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, gli esperti geologici e la popolazione. È essenziale che le misure preventive siano rigorosamente applicate e che la popolazione sia costantemente informata sui rischi e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. Le esercitazioni di evacuazione, le campagne di informazione e l'educazione continua sono strumenti cruciali per garantire la sicurezza della comunità. Le autorità devono assicurarsi che le infrastrutture critiche siano adeguatamente protette e che le aree a rischio siano monitorate costantemente. Il crollo del costone di roccia a Monte di Procida e il terremoto che ha colpito oggi i campi fregrei ci ricordano la vulnerabilità del nostro territorio e la necessità di rimanere vigili e preparati. È essenziale continuare a monitorare l'attività sismica e vulcanica della zona, implementare misure di sicurezza adeguate e informare costantemente la popolazione sui rischi e le procedure di emergenza. Grazie per averci seguito in questo approfondimento. Continuate a sintonizzarvi su Radio Fuggino NER per ulteriori aggiornamenti e analisi sulla situazione. La sicurezza e la prevenzione sono responsabilità di tutti noi e insieme possiamo affrontare le sfide che la natura ci pone davanti. Grazie per averci seguito al prossimo episodio di Radio Fuggino NER. Avete ascoltato Radio Fuggino NER.